Cosa ne pensa lui della possibilità dell'intelligenza del Cosmos, Cosmogos infinito? Non ho dubbi che l'intelligenza esiste nel Cosmo, e io lo so che tra uomini scienziati tutti pensano, tutti scienziati, pensano che l'intelligenza è abitata, che è più vecchia di nostra, più sviluppata di nostra, forse tutta questa civiltà si manifesta attraverso questo fenomeno.